Immaginate un gigante d'acciaio, lungo più di due campi da calcio, che sfida gli oceani del mondo. Un'opera di ingegneria moderna, indistruttibile, o quasi. Cosa succede quando una forza invisibile, un'anomalia matematica del mare, lo afferra, lo scuote con una violenza inaudita e lo costringe a vomitare il suo prezioso carico nell'abisso? E se, come per un crudele scherzo del destino, quel carico, una volta in mare, innesca un'altra tragedia, un fuoco tossico che brucia per giorni, questo non è un racconto di fantasia. Questa è la storia agghiacciante della Zim Kingston, un mistero marittimo che, nell'ottobre del 2021, ha svelato la vulnerabilità dei nostri giganti galleggianti e ha lasciato dietro di sé un'eredità di pericoli nascosti. Preparatevi, perché stiamo per esplorare il mistero del rollio fantasma. Il suo nome evoca forza, affidabilità, un gigante dei mari progettato per la vasta scala del commercio globale. Costruita nel 2008 dai celebri cantieri navali di Samsung Heavy Industries in Corea del Sud, questa nave porta container, battente bandiera maltese, non era un semplice mezzo di trasporto, ma una meraviglia di ingegneria navale. Era una struttura imponente, con una lunghezza di oltre 260 metri e una larghezza di più di 32 metri. Questo gigante d'acciaio aveva una stazza lorda di 40.030 tonnellate. La sua capacità di carico era impressionante, 4.253 TEU, le unità equivalenti a container da 20 piedi. Questo significava che poteva trasportare l'equivalente di migliaia di container standard, posizionati sia nelle stive sotto coperta che saldamente ancorati sul ponte. La propulsione della Zim Kingston era affidata a un motore diesel a presa diretta da 36.560 kW, che azionava un'elica a passo fisso, un sistema robusto, progettato per l'efficienza e la potenza necessarie per le lunghe traversate transoceaniche. La nave era dotata di tutti gli equipaggiamenti di navigazione richiesti dalla convenzione SOLAS, Safety of Life at Sea, inclusi un inclinometro analogico e un registratore di dati di viaggio. Nel suo viaggio maledetto nell'ottobre del 2021, la Zim Kingston era partita da Busan, in Corea del Sud, e si dirigeva verso il porto di Vancouver in British Columbia, Canada. Il suo carico? Un impressionante mosaico di 1.965 container, per un totale di 3.657 TEU. Di questi, 1273, erano stipati sul ponte, esposti agli elementi, e 692 protetti nelle stive. Tra questi, un dettaglio cruciale, alcuni erano classificati come merci pericolose. Quattro container da 40 piedi contenevano ciascuno 23.800 kg di xantato di amile potassico e un altro da 20 piedi trasportava 18.000 kg di biossido di tiurea. Sostanze che, come scopriremo, avrebbero giocato un ruolo macabro in questa storia. L'autunno del 2021 era un periodo caotico per il trasporto marittimo globale. La pandemia di Covid-19 aveva creato ingorghi biblici nei porti. Per il porto di Vancouver, la situazione era aggravata da incendi e inondazioni in British Columbia. L'intenso traffico e i ritardi significavano che spesso non c'erano ormeggi disponibili. Era il caso della Zim Kingston, arrivata in anticipo di circa tre giorni rispetto alla sua finestra di ormeggio programmata, si trovò senza un ancoraggio disponibile. Il comandante prese una decisione che sembrava logica in quel momento, rimanere in posizione di deriva a largo della Laperouse Bank, a circa 27 miglia nautiche a sud di Ucluelet. Attesa passiva, routine per i colossi del mare. Ma il mare ha delle sorprese, anche per i più esperti. Era la notte del 21 ottobre, 20 a 42 nodi da sud-est e onde tra i 5 e i 6 metri da sud-ovest. Condizioni impegnative, ma gestibili per una nave di quelle dimensioni. Poi, all'improvviso, qualcosa di anomalo. La Zim Kingston iniziò a muoversi in modo innaturale. Non un semplice beccheggio, non un rollio prevedibile, ma una danza macabra, un fenomeno noto come parametric rolling. Immaginate una nave moderna, concepita per la stabilità, che all'improvviso viene colpita da un'ondata e poi da un'altra, con un ritmo che non è la forza bruta delle onde, ma la loro frequenza. È come se la nave entrasse in risonanza con il mare, perdendo la sua stabilità intrinseca. La sua stabilità si riduce sulla cresta dell'onda, e se questo ciclo si ripete nel giusto tempo, l'oscillazione si amplifica in modo esponenziale. È una follia matematica del mare. Un bug, nella sua interazione con lo scafo. La prua svasata e la poppa piatta della Zim Kingston, perfette per il carico, la rendevano tragicamente vulnerabile. La nave rollò fino a 36 gradi, sia a babordo che a tribordo. 36 gradi! È come se la nave tentasse di sdraiarsi sull'acqua. I test successivi, condotti su un modello in scala 1 a 50 della Zim Kingston, avrebbero rivelato che questo fenomeno può accadere anche con altezze d'onda significative, a partire da soli 2 metri e 60. Ma in quel momento, per la Zim Kingston, era un incubo ad occhi aperti. Le forze di accelerazione trasversali, misurate a quasi 0,95 g, un valore che indica quasi la forza di gravità terrestre, sono state registrate in una specifica sezione di carico sul ponte della nave, la Baia 14. Strapparono letteralmente i container dai loro ancoraggi. 109 container furono spazzati via, gettati nell'abisso come giocattoli. Interi stack crollarono. Il ponte della nave, un tempo ordinato, era un cumulo di lamiere contorte e vuoti agghiaccianti. Tra quei container persi c'era la nostra macabra curiosità. Alcuni contenevano merci pericolose e uno di quelli danneggiati, ma ancora a bordo, avrebbe scatenato l'inferno. Quasi 36 ore dopo la tempesta del Rollio, il 23 ottobre, mentre la Zim Kingston cercava rifugio ancorata a largo di Victoria, British Columbia, un denso fumo nero iniziò a levarsi dal ponte. La causa? Un container danneggiato che conteneva xantato di amile potassico, una sostanza apparentemente innocua che, a contatto con l'acqua, diventa un cocktail chimico infernale. Gas infiammabili e tossici, pronti a esplodere. Il Rollio fantasma non solo aveva causato la perdita del carico, ma aveva anche innescato un incendio devastante che avrebbe bruciato per cinque lunghissimi giorni. Un fuoco difficile da domare, che rilasciava fumi tossici, costringendo parte dell'equipaggio ad evacuare. La risposta a bordo fu efficiente e seguì le linee guida, ma la gravità della situazione richiese aiuti esterni. Grazie a un contratto preesistente con la società Resolve Marine, specializzata in salvataggio e risposta alle emergenze, la Zim Kingston ebbe accesso a specialisti. Due navi, la Maersk Trader e la Maersk Tender, che si trovavano fortuitamente ormeggiate a Victoria, furono prontamente contrattate per aiutare nelle operazioni di raffreddamento. Queste navi, con le loro potenti pompe, furono determinanti nel limitare l'estensione dell'incendio. Il fuoco bruciò ininterrottamente per cinque giorni, prima di essere dichiarato estinto. Ma la vera storia della Zim Kingston, in fondo, non si è spenta con quelle fiamme. La sua eredità è ancora lì, invisibile, sul fondo dell'oceano. Centinaia di container, migliaia di tonnellate di detriti, la testimonianza muta di un disastro che continuiamo a pagare. La Zim Kingston è un monito. Ci ha mostrato la vulnerabilità dei nostri giganti d'acciaio, le sorprendenti lacune nei nostri sistemi e, soprattutto, il costo invisibile e a lungo termine che i nostri oceani pagano per ogni incredibile evento marittimo. Questo incidente ci impone una riflessione profonda. La sicurezza in mare non è un costo, ma un investimento vitale. Dobbiamo imparare da questo incredibile evento. Dobbiamo investire in ricerca, in strumenti più precisi, in una formazione migliore per gli equipaggi e in protocolli di emergenza globali, perché la sicurezza in mare non è un optional, ma la nostra ancora di salvezza. I nostri oceani e le vite di chi li attraversa dipendono da questo. Il mare non perdona e le sue lezioni possono essere incredibilmente dure. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri Navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.